Dopo 30 anni dall'approvazione della legge Basaglia, una fiction sul grande Franco Basaglia, qual è stato il motore che l'ha spinta a produrre una fiction di questo tipo? Perché Franco Basaglia, il professor Basaglia è stato un grande scienziato, un grande professore che ha squarciato il velo di un dramma mondiale secondo me che è quello proprio del malato mentale che fino a quel momento lì era trattato non da essere umano con tutti i suoi diritti civili che erano stati tolti e quindi lui conosceva la sua storia e quindi ho avuto la sensazione e ho sentito il desiderio che fosse giusto riaprire e raccontare quello che lui aveva fatto perché la legge 180 in realtà poi non è stata applicata in tutta Italia e quindi il motore è stato quello di riproporre alle persone di oggi, ai ragazzi di oggi un problema che a quell'epoca era gestito in maniera disumana e cosa era stato Franco Basaglia per questa società ma non solo italiana? Quanto è attuale questo problema e come secondo lei si dovrebbe agire? Purtroppo è attualissimo, questo problema è attualissimo perché molti problemi non sono rimasti non si sono risolti come il professore ha indicato quindi ecco anche l'altro motivo per cui ho desiderato fare questa fiction che mi rendo conto che è difficile ma per come è stata poi realizzata grazie al regista, agli attori e a tutti quanti spero che comunque quello che andava detto si capisca la cosa più importante è che è stato un lavoro collettivo Basaglia, quello che ha potuto realizzare è stato un lavoro collettivo perché tutti con lui hanno lavorato su questa problematica e far capire che chi ha problemi psichici è un essere umano con tutti i suoi diritti e fare in maniera che questa legge venga applicata in maniera corretta in tutta Italia e forse sperando che anche si allarghi l'orizzonte nazionale La fiction sul tema che affronta i temi del sociale continuerà su questa strada? Ma io non è che vada a scegliere i temi sociali Un po' perché io sono attratta da tematiche da momento che devo impegnarmi preferisco impegnarmi su cose che valga la pena fare quindi sì, prosegui con la lunga serie che tratterà la violenza sulle donne sono sei film con tre registi Cavani, Fontrotte e Ponte Corvo e quindi andiamo avanti con questo entusiasmo di volermi anche confrontare con tematiche che io desidero portare avanti Perché quanto ha a cuore la violenza sulle donne? Non è che abbia a cuore la violenza sulle donne perché è una tragedia anche questa è quello che accade alle donne sotto gli occhi di tutti quindi a me interessa moltissimo realizzare un progetto di questo tipo purtroppo è una realtà drammatica, feroce che secondo me peggiora sempre di più in una società che non tiene più conto di molti valori tra i quali il rispetto e la vita delle donne e quindi anche su questo progetto mi sento profondamente coinvolta Grazie, RB Casting le auguro un buon lavoro Grazie 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 Grazie